La procedura per la scelta dei diamanti che verranno utilizzati nella creazione del pendente è necessariamente precisa e minuziosa. Una preliminare setacciatura permette di selezionare le pietre occorrenti ciascuna di ugual misura. Si esegue quindi una prima applicazione di verifica valutando inoltre due importanti caratteristiche il colore e la purezza le gemme così raccolte sono successivamente pesate per determinarne l'esatta caratura Fissata la base grezza del gioiello alla pece mediante il calore il maestro orafo procede alla definizione della forma e alla specifica realizzazione delle punte dei castoni che ospiteranno le pietre preziose. Uno alla volta i diamanti vengono così perfettamente posizionati ed incastonati consentendo la realizzazione di un vero e proprio capolavoro. Ecco, questo è un pendente, sicuramente made in Italy. Grazie a tutti! Grazie a tutti!